Il fischio d'inizio allo stadio Lino Turina di Salò è fissato alle ore 20.45. Chiediamo adesso con il volley, il Rana Verona ha ufficialmente presentato il suo nuovo palleggiatore, il russo Abaev. Ho studiato italiano quasi due anni e giocare qui in Italia era mia sogna, mia metà. Ecco perché il mio ex allenatore mi ha detto che se vuoi giocare lì devi capire la cultura, se vuoi capire la cultura devi capire la lingua. Ecco perché ho cominciato a studiare e adesso parlo così così ma è bene. Perché scelto? Perché questo campionato è uno forse migliore del mondo, uno del migliore. E se vuoi essere migliore devi giocare contro migliori. Abbiamo tutte le opportunità per crescere come squadra e anche io qui per crescere come giocatore insieme con la squadra passo da passo, step by step. Credo che insieme con i sponsor, con i staff, con tutti, con i tifosi possiamo fare un bel lavoro. Ho scelto Verona perché qui c'è un bel progetto, una grande squadra con tanti giocatori, con grande livello. Possiamo fare un bel lavoro come ho detto prima. Anche ho sentito molto da Di Rado, un allenatore anche grande. Sapete, lui ha vinto tre Champions League. Ecco perché ho scelto Verona anche spero che vennerà Raffaele, anche Raffaele, un grande palleggiatore, un grande allenatore. Spero che posso prendere da lui qualcosa di interessante. Con questo è tutto, ma non resta che ringraziarvi della cortese.